Questi due cariche in maniera uniforme solo che una è spalmata con una carica positiva e l'altro piano è caricato con una carica negativa ma con lo stesso valore di densità lo so, 10 Cm al metro quadro ma uno positivo e l'altro negativo lo stesso valore sigma ma di segno opposto tre punti e nei tre volumi perché questi due piani infiniti dividono lo spazio in tre volumi c'è il volume sopra, il volume in mezzo e il volume sotto scegliete a caso tre punti uno per volume il punto uno è nel volume sopra il due in mezzo e il tre sotto qual è il campo elettrico in questi punti? facendo tesoro della lezione di adesso dove abbiamo imparato cosa stupefacente che se il piano è infinito il campo elettrico non dipende dalla distanza del punto se il piano è caricato positivamente le frecce si allontano dal piano se il piano è caricato negativamente le frecce convergono sul piano quindi se il piano è positivo le frecce divergono dal piano se le cariche sono negative le frecce convergono sul piano ok? e in questo punto qua ci sono due contributi uno che viene dal piano positivo e uno che viene dal piano negativo e quindi dobbiamo scrivere guardate ho chiamato questo l'asse y tanto per fare quello l'asse x scrivete il campo elettrico del punto uno dovuto alla carica positiva dovuta alla carica positiva cioè io voglio scrivere prima questo pezzo qui in giallo prima questo pezzo qui com'è? allora in questo punto la freccia è verso l'alto è verso l'alto la freccia e quindi è nella direzione y e quindi scriverò che è sigma 0 diviso 2y0 nella direzione y col segno più questo è il contributo del piano giallo e il contributo del piano rosso invece è siccome il piano rosso è negativo la freccia è verso il basso è verso il piano ma siccome la sigma 0 del piano rosso è uguale alla sigma 0 del piano negativo solo di segno opposto la freccia rossa che devo disegnare qua è esattamente lo stesso modo di questo quindi è così quindi io scriverò che è uguale a meno sigma 0 2y0 q di y e come potete vedere sono nato anche graficamente che questa freccia e la somma di queste due frecce è 0 e lo vedete qua no? cioè è ovvio che questo è uguale a 0 quindi è il vettore nullo si intende quindi è il vettore nullo si intende potete capire anche che lo stessa cosa vale nel punto 3 no? nel punto 3 nel punto 3 questo è un 3 avete la freccia gialla che nasce dal piano positivo e quindi piano positivo la freccia che dovete disegnare qua diverge dal piano quindi qua disegnate una freccia gialla ma la freccia gialla che disegnate è esattamente uguale a questa qua perchè la dipendenza dalla distanza non c'è quindi questo è così quindi questo si scriverà così meno sigma 0 2y0 u y la freccia verso il basso poi avete bisogno di scrivere la parte rossa adesso devo disegnare il contenuto del piano rosso il piano rosso è negativo quindi la freccia che devo disegnare qua va verso il piano converge sul piano e ha esattamente lo stesso modulo ok? e di nuovo questo e questo hanno esattamente lo stesso modulo quindi capite che pure questo è il vettore rinoso invece il punto 2 è interessante perchè avete la freccia gialla che diverge dal piano giallo dal piano la freccia gialla diverge da questo e ha il solito modulo perchè il modulo non dipende dalla distanza dovete semplicemente ricordare da quale lato del piano siete se siete sopra la freccia gialla alza verso l'altro se siete sotto la freccia gialla è nella direzione di meno u y ok? e la freccia rossa la freccia rossa in questo punto converge sul piano perchè il piano è negativo e quindi dovete prendere la solita freccia e vedete che queste due le ho disegnate e spostate solo per riuscire a distinguerle sono tutte e due nello stesso punto e è evidente che in questo e quindi la soluzione è che il campo elettrico tra i punti che sono in mezzo il punto P2 in particolare tutti i punti che sono tra le due piastre è uguale a meno sigma 0 diviso y0 u di y ok? quel meno è semplicemente perché ho chiamato la direzione y verso l'altro quindi il campo elettrico risultante è la somma di questi due se volete la disegno ma è evidente che la somma di questi due è una freccia che è così che è la somma di questi due in questo punto qua e in questo punto qua la stessa freccia in questo punto la stessa freccia e in questo punto la stessa freccia e in ogni punto tra i due piani ho esattamente lo stesso campo elettrico invece i punti fuori dal piano cioè per i punti tra i due piani ho lo stesso campo elettrico uniforme quindi invece fuori il campo è 0 quindi qua 0 qua 0 e il campo elettrico è confinato qua in mezzo ok? ovviamente variazioni su questo esercizio se ne sono pizzeffe in cui l'uno intavola un veloce orale nel senso che magari la prima domanda che faccio è una domanda un po' un esercizietto ed è il biglietto di visita prima lo deve superare lo scritto gli scritti secondo me sono facili poi l'orale è un riproporre o lo scritto se la persona non ha fatto brillantemente quindi ha qualche cosa che non va oppure sono altri scritti o altre domande analoghe date perché voglio che la persona cominci a parlare con quale sicurezza lui espone poi l'orale nasce spontaneamente ma mica che il campo elettrico è uniforme chi è che lo dice? hai imparato a memoria? me lo sai convincere eccetera eccetera e da lì apre ma devo invocare la legge di Gauss e mi dico cos'è la legge di Gauss? e lui non scrive e scrive bene ah interessante quindi ho capito che quell'argomento allora facciamo l'alto faccio la legge di Faraday non sto la a insistere se vedo che va bene insisto se vedo che scrive la zi Gauss in maniera inappropriata allora lì vado a fungolare se voi vi esprimete bene passo ad altro ogni orale credo che sia così non so qual è la vostra esperienza di esame ormai avete un semesso sulle spalle variazioni sul tema sono queste immaginate avere un piano così un piano così un piano così in cui che so questo è positivo questo è negativo questo è negativo questo è positivo ci sono 5 volumi 1,2,3,4,5 e poi ditemi il campo elettrico quei 5 volumi fatelo in questo punto qua dovete disegnare 4 frecce non disegnate lo stesso punto perché dovete minimo di distanza così non si sovrappongono questo è un piazza positivo alla freccia di qua questa è negativa alla freccia di là questa è negativa alla freccia di là questa è positiva alla freccia di qua qual è la somma secondo voi? 0 qua cosa avete? avete una freccia positiva che viene da questo questa è negativa quindi va così ah scusatemi questo è positivo ho già sbagliato vedete questo è positivo la freccia si allontana diverge questa è negativa la freccia converge questa è negativa la freccia converge verso il piano verso il piano questa è positiva la freccia diverge cosa vedo? 0 anche qua e qua? qua? questo punto qui questo è positivo la freccia diverge questo è negativo la freccia converge questo è negativo la freccia converge questo è positivo la freccia diverge questo è positivo vedete questi si cancellano questi no quindi avete A sigma 0 diviso y 0 qua cosa avete? simmetrico di questo 0 qua cosa avrete? un po' di immaginazione cosa avrete? ma fatelo no? questo è positivo diverge questo è negativo converge questo è negativo converge questo è positivo diverge è una freccia che va di là, sigma 0, F0, questa è una freccia che va di qua, quindi queste frecce sono opposte, ecc. Con questa domanda ci è difficile, poi io dico d'accordo, allora mi convica che il campo è uniforme, ma se uno sa neanche muoversi qua è inutile fare una domanda, no? Allora, scriviamo la classione di Maxwell di nuovo e ogni volta che si scrivono è un motivo di più per avere meno pazienza con voi all'orale. Più le scrivo, più è imperdonabile che voi non le sapete scrivere. Le scrivo in forma integrale, in forma integrale abbiamo il flusso del campo elettrico, tra 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 tra, tra tra, interno, epsilon 0. poi abbiamo la circuitazione del campo elettrico, poi abbiamo il flusso del campo elettrico, che è sempre 0. Poi abbiamo la legge di Ampere, Maxwell. e poi abbiamo la legge di Ampere, quindi abbiamo il flusso del campo di Ampere, comunque abbiamo il flusso del campo, poi c'è la legge di Favre di Lorenz. Allora, prima cosa, in elettrostatica, vedremo già a martedì, che è così, che è equivalente a dire che il campo elettrostatico è irrotrazionale. Metteteci pure un SP qua per ricordarvi che è un campo elettrostatico, non è vero in generale, è vero per il campo elettrostatico. Quindi voi sapete già un sacco di belle cose, che la circuitazione è identicamente 0 per qualsiasi cosa chiusa C, equivale a dire che l'autore è uguale a identicamente 0. Equivale a dire che esiste un campo scalare che indicheremo con la lettera V, è tale che due cose, uno che il campo elettrostatico è meno il gradiente di V, il segno meno lo mettiamo perché è un costo di fisica, e l'integrale curvilineo da A a B per il campo elettrostatico lungo una qualsiasi curva chiusa C, curva, curva, non curva, collega due punti, da A a B lungo una qualsiasi curva è uguale a V di A meno V di B, perché A meno B e non B meno A? Perché c'è questo segno meno? tutta la matematica che abbiamo già fatto, questo è un'elettrostatica, questo campo scalare qua ha un nome in onore di un italiano, ok? Il campo scalare si chiama il potenziale elettrostatico, potenziale elettrostatico, notate la parola statico, si chiama potenziale, il motivo per cui si chiama potenziale è perché è la stessa matematica che c'è dietro l'energia potenziale, ma non è un'energia, ma ha un nome che ricorda lo studente che in fondo è quella matematica là, e nel sistema internazionale, V si misura in volt col simbolo V maiuscolo, quindi se avete bisogno di scrivere 100 volt, lo scrivete con la V minuscolo, se dovete scrivere specialmente la parola, lo scrivete con la V minuscolo, perché V maiuscola è la famiglia, d'accordo? Quindi scriverete 100 volt, oppure 100 volt, d'accordo? In il sistema internazionale, quindi vedete che questo qua cos'è? Questo mi sta dicendo che il campo, per esempio il campo elettrico nella direzione X è meno la derivata parziale del potenziale elettro statico, rispetto alla coordinata X, e questo vi fa capire perché il campo elettrico, si abbiamo capito, c'è la forza di Lorentz, quindi uno potrebbe dire che il campo elettrico, il campo elettrico uno potrebbe esprimere nel sistema internazionale, il campo elettrico in tot Newton diviso Coulomb, potrebbe scrivere Newton diviso Coulomb, ma è molto raro, è molto raro che qualcuno esprima il campo elettrico in quel modo, quasi sempre la gente esprime il campo elettrico in tot volt su metro, e lo vedete perché? Volt su metro! Volt su metro, quindi 100 Newton su Coulomb è uguale a 100 volt su metro, questo è il modo in cui si esprime il modulo intensità di un campo elettrico, volt su metro, che è la stessa cosa di Newton su Coulomb, quindi dovete capire da dove viene, volt su metro, volt su metro, volt su metro, ok? Il B in cosa si esprime? Tanto che dimensioni AB, B ha dimensioni tali che quando la moltiplicate per una carica e per una velocità ottenete una forza, ok? Giusto? Allora B nel sistema internazionale B si misura in Tesla, e si scrive con la T maiuscola in onore del signor Tesla, e quindi avete un certo numero Tesla, che era un gigante, era fondamentalmente un ingegnere elettrotecnico, però ha fatto talmente delle cose di punta e di ricerca, che praticamente è un fisico, cioè i fisici amano considerarlo un fisico, gli ingegneri amano chiamarlo un ingegnere, storicamente lui era un ingegnere, però si è messo a fare non solo brevetti e cose pratiche, ma anche a forse delle problematiche teoriche. E si misura in Tesla, E si misura in volt su metro, quali sono le dimensioni di E? Dovrei essersi in grado di dirlo, e anzi quali sono le dimensioni di B? Dovrei essersi in grado di dirlo. Per dimensioni intendo non i cosa si misura, ma dimensioni, ok? Quindi questo è un Newton fatto un Coulomb, no? Quindi è una forza diviso una carica, quindi avete una massa, una lunghezza, un tempo la meno 2, una carica la meno 1. Cos'è un campo magnetico? Dovete chiedervi che dimensioni ha, in modo di avere una forza. ma io voglio fare un'altra domanda, che dimensioni ha questo prodotto qua? Epsilon zero per mu zero, che dimensioni ha? Voi lo sapete già, ma voglio che me lo dimostriate, perché uno si ricorda, perché l'ho detto in classico, perché si ricorda che Epsilon zero per mu zero è uguale a uno su C quadro. Io voglio che voi vi dimostriate che, prese le dimensioni di Epsilon zero, prese le dimensioni di mu zero e moltiplicatele assieme, voi avrete la dimensione di qualcosa che è una velocità, uno su una velocità al quadrato. Cioè questo deve avere le dimensioni di un tempo al quadrato lunghezza alla meno 2. Sareste in grado di farlo? Perchè no? Perchè no? Prendete un foglio di carta volante e mettetevi a loro, coraggio! Guardate qua, dov'è che appare Epsilon zero mu zero? Per esempio, avete Epsilon zero appare qua, d'accordo? E mu zero appare qua, quindi potete anche affrontare questo, deducete le dimensioni di mu zero da qua, ottenete le dimensioni di Epsilon zero da qua e tiratelo fuori. Oppure, brutalmente, siccome vi sto chiedendo cos'è Epsilon mu zero, prendete questa e chiedetemi che dimensioni deve avere questo. Allora, ragionate, io preferisco il modo in cui vi chiedo come sono le dimensioni di questo, qual è la dimensione di questo e poi fate il prodotto. Facciamo questo metodo mio, però dovete essere in grado di esercitarvi, coraggio! Facciamo questo metodo mio. Domanda dorale? Le dimensioni di Epsilon zero, come vedete qua, sono le dimensioni di una carica diviso le dimensioni di un flusso del campo elettrico. non voglio introdurre simboli. Ok? Qual è la dimensione di un flusso? Cos'è questa roba qua? Quindi avete la dimensione di Q moltiplicato per la dimensione di E per la dimensione dell'area. Allora, un flusso cos'è, il flusso del campo elettrico cos'è? E' un campo elettrico per un'area Quindi abbiamo che la dimensione di Y0 è uguale a una carica Poi abbiamo un campo elettrico, ma cos'era un campo elettrico? Un campo elettrico che dobbiamo affrontarlo, dobbiamo scriverlo giù E' una forza divisa una carica E' una massa per la lunghezza, per il tempo alla meno 2 Una forza divisa una carica Questo è, quindi faccio con calma Diviso mLt alla meno 2 carica alla meno 1 Questa è la dimensione di questo E questa è una lunghezza quadro E quindi abbiamo già la dimensione di Y Dobbiamo semplicemente evitare di fare orrori Quindi la Q va su, quindi ho una massa alla meno 1 Ho una lunghezza alla meno 3 Ho un tempo al quadrato E ho una carica al quadrato Siete d'accordo? Dobbiamo arrotolare le maniche per ottenere la dimensione di questo Che caldo, eh? Cosa abbiamo qua? Che mu0, la dimensione di mu0 E' un flusso del campo magnetico Diviso la corrente Quindi abbiamo... Cos'è un flusso del campo magnetico? Un campo magnetico Per una...questa è la circuitazione Scusatemi La dimensione di Y0 è una circuitazione Diviso una corrente Quindi abbiamo la circuitazione, l'ultima analisi è un campo magnetico per una lunghezza diviso la dimensione di una corrente Ma cos'è la dimensione di B? Dobbiamo tornare alla legge del signor Lorenz Lorenz B, le dimensioni di B è una forza diviso una carica diviso una velocità Quindi questa è forza, massa, lunghezza, tempo a meno 2 diviso una carica diviso una velocità Quindi questa è una lunghezza per un tempo a meno 1 Quindi la dimensione di B Siete d'accordo? Siete d'accordo? Questa è la dimensione di B Questo qua su Cos'è la dimensione di una corrente? La dimensione di una corrente è una carica fatta un tempo, giusto? Quindi qua avete Quindi mettiamo i pezzi insieme senza correre Perché sono stanco anch'io Spero di non commettere qualche errore Quindi manca la lunghezza Questo qua Diviso questo Che è una corrente Tempo alla meno 1 E quindi ho questo che va via con questo Questo qua su E quindi ho la massa, la carica alla meno 2 per una lunghezza Questo è mu 0 E vediamo se mi viene Quindi Epsilon 0 per mu 0 Che dimensione ha? E' quello la che è M alla meno 1 Ve lo detrate? Che non c'è un riflesso M alla meno 1 Epsilon L alla meno 3 Che è al quadrato E questo è M Q alla meno 2 L Ha funzionato? Si! Perché ho la M che va via Ho la Q che va via Ho una delle L che va via E mi rimane T al quadrato L alla meno 2 Cioè è proprio la dimensione di uno su una velocità al quadrato Ora Non è difficile E' un buon esercizio Perchè uno ritorna a leggere Lore Per pensare un po', no? Siete d'accordo? Ok Importante che l'abbiamo fatto Perchè ho una domanda in più Che posso fare All'esame Che dove sono? Mamma mia tanto tempo Sono andato troppo velocemente Ci sono andato E' un po' Un po' Che cosa è un po' Ci sono e un po' Ci sono e un po' Ci sono e un po' Quindi immaginate, silenzio per cortesia, abbiamo ancora mezz'ora, sarò rapido su questo? Mezz'ora è tanto, io voglio adesso studiare il campo elettico creato da una distribuzione lineare di carica, abbiamo fatto la carica puntiforme, la carica sferica, la carica planare, voglio fare adesso la distribuzione di carica distribuita lungo una linea, che di nuovo è una linea, è un segmento arbitrariamente grande, un segmento indefinito. Quindi questo è il disegno, ovviamente arbitrariamente lungo, deve essere chiaro questo, perché voglio sfruttare la simmetria di che tipo? Allora, in questo punto qua vi sto chiedendo com'è il campo elettrico. Per lo stesso discorso che abbiamo appena usato col piano, cioè il discorso, io posso pensare alla proiezione ortogonale di questo punto sulla linea. Quindi qual'è questo punto? E' il punto di minor distanza dal punto prefissato a questo punto qua, ok? Si chiama la proiezione ortogonale. Questa carica qua creerà un campo in quella direzione, immaginiamo che la carica distribuita sul bastone, sull'asta sia positiva. E supponiamo anche che la carica sia distribuita in maniera uniforme, ma siccome è una distribuzione lineare, per ricordarmi che è quello, uso un simbolo lambda. Quindi lambda è la densità lineare, cioè quanti coulomb al metro, al metro, proprio metro di lunghezza. Ok? E voglio che questo, che a priori dipenda da dove si è sulla retta, io voglio che sia una costante. D'accordo? Quindi ho una densità di carica lineare uniforme lungo questa retta. E supponete che sia positiva, quindi il campo elettrico in questo punto se ne va in questa direzione. Ma c'è il gemello, stesso discorso, quindi andrò molto più rapidamente. Riuscite a capire, spero, che il campo elettrico sarà perpendicolare al filo. Stesso tipo di discorso. Allora, che tipo di superficie di Gauss userò? Voglio studiare il campo elettrico sfruttando la legge di Gauss e delle proprietà di simmetria. Allora, la superficie di Gauss che voglio usare è sia una lattina di Coca Cola, non una scatola, non una chitarra, non un triangolo, ma veramente una lattina di Coca Cola. Ma la metto in che modo? La metto così. Tutti i punti che sono sul lato della lattina hanno la stessa distanza dal filo. visto nel piano trasverso, se questo è il filo e questa è la mia lattina di Gauss, non la lattina di Gauss, la lattina di Gauss, io so che il campo qua è radiale e avrà tutti i punti sulla superficie, sul lato, adesso è il lato cilindrico che mi darà tutte le frecce sul lato cilindrico, sono risposte così. Perché io so che il campo elettrico qui è radiale e questo punto ha la stessa distanza però la stessa freccia, stessa freccia, stessa freccia, direzione opposta si intende, certo che hanno direzioni opposte, ma hanno tutto lo stesso modulo, cosa che sto rappresentando per legare assieme le punte, ok? Quindi ho il campo elettrico che sta divergendo dal filo e ogni campo elettrico è perpendicolare al filo. Quindi adesso se io faccio il mio calco dell'integrale attraverso la lattina di Gauss, io ho tre contributi, dal tappo a sinistra, dal tappo a destra e dalla parte cilindrica. Notate che la superficie di Gauss non è un quadrato. Perché non può essere un quadrato? Perché avrà i punti che hanno distanze diverse. deve essere di sezione circolare. Questa non va bene. Questa sì. Perché questa non va bene. Perché questa è quella giusta. Ok? Siate pronti ad argomentare. Potreste anche dire, ma professore non lo faccio, non è ovvio. Io sarò felice dalla vostra sicurezza, passiamo ad altro. Se vedo la professore sbiancare, allora tappo a sinistra, tappo a destra, lato cilindrico. Quindi ho tappo a sinistra, più tappo a destra, più lati o lato cilindrico. Allora, cos'è un flusso? Maledizione! Dovete prendere i vettorini di aria e orientarli da dentro verso fuori. Allora, questo è un elemento di arie, ta dentro verso fuori. Questo è un elemento di arie, ta dentro verso fuori. Questo è un elemento di arie, ta dentro verso fuori. Questo è un elemento di arie, ta dentro verso fuori. Il Tappo, più qua. Perché il campo elettrico è a 90 gradi. Tutti i punti sul lato hanno la stessa distanza Quindi io riesco molto rapidamente a scrivere Nuvola di gesso La latina di Caos ha due valori Uno è fisica L'altro è matematica ispirato alla simmetria Che in questo caso è una simmetria cilindrica La fisica dice che questo è uguale a La carica interna diviso ε0 Ma qual'è la carica interna? La carica interna la facciamo in arancione Questa è la carica interna E' la carica che c'è nel filo Lungo questa è la lunghezza della latina Quanto è lungo la latina? Scriviamo L L è la lunghezza della latina E intanto l'area Chi se ne frega dell'area dei tappi Perché tanto i tappi non contribuiscono Non mi pare? Però l'area ci interessa un po' indirettamente Perché dobbiamo decidere qual'è il raggio di questa latina Come la chiamiamo? Facciamo D per distanza dei punti Ok? Quindi in un certo senso l'area del tappo Anche se non ci interessa La sappiamo cos'è Pi greco di mezzi Quindi D è la distanza del punto che io sto considerando Costruisco una latina di raggio D Di una certa lunghezza L D'accordo? Quindi la distanza D è la distanza dei punti del lato della latina Quindi io sto cercando di capire quanto vale il campo elettrico alla distanza D D'accordo? Quindi la carica interna è uguale a questa carica qui A questa carica qui quant'è? La carica interna è uguale a lambda 0 per L Dove è L? La lunghezza della latina E lambda 0 è quanti coulomb al metro io ho su questo appennetto filo Quindi questo io so cos'è E' 1 su epsilon 0 lambda 0 L Ma adesso la matematica ispirata alla simmetria mi dice un'altra cosa E questo è uguale I tappi non contribuiscono Mi contribuisce solo il lato esterno Quindi è il valore comune di tutti i punti sul lato Per la superficie del cilindro Escusi i tappi eh Quindi ho il valore comune alla distanza D Di tutti i punti che hanno la distanza D Per la superficie del cilindro Qual è la superficie di un cilindro? E' la circonferenza moltiplicata per la lunghezza no? Quindi è 2 pi greco R per L Giusto? Quindi è 2 pi greco R per L Questa qua è la superficie del cilindro Vedete che è in metri quadri R per L E concludo eguagliando questi due E il campo elettrico ha la distanza D Guardate ho la L che è arbitrario Non entra estestamente E vedete che è uguale a Lambda Facciamo così 1 su 2 pi greco Epsilon 0 Lambda 0 diviso R Giusto? E questo è interessante Anche questo è un po' Stupefacente e forse esagerato Non è poi così stupito Anzi è soddisfatto Perché è soddisfatto? Perché quando la carica è puntiforme Il campo elettrico dipende dalla distanza In 1 sulla distanza al quadrato Qua oppure anche sferico per quello eh Quando siete fuori dalla sfera si prende Quando avete un filo Avete che il campo elettrico Dipende dalla distanza del punto dal filo Come 1 sulla distanza Facciamo così Usiamo la stessa notazione Ok Questo è un punto Questo è un filo Una retta Una retta E abbiamo anche il piano E qua Il campo elettrico funziona alla distanza Non dipende per niente dalla distanza Quindi anzi facciamo così Per non scriverlo specificamente È costante Quindi non Dipende dalla distanza E ho trattato la progressione qua no? Questa è l'assimmetria sferica Diamo anche le simmetrie Ah no dai Schi, possiamo dire una parola Questa è la simmetria sferica Questa è la simmetria cilindrica E questa è la simmetria per traslazione Cioè qualsiasi punto l'uomo di piano uguale, vedete? Qua 1 sulla distanza quadrata, 1 sulla distanza, quindi qua la potenza è la potenza a distanza meno 2 distanza meno 1 e questa distanza alla 0, è una costante, vedete? Carina questa progressione, vedete che riuscivo a farlo rapidamente e vorrei che faceste da soli Oddio, oh no, no pain, no gain, fammi male! Sapreste far questo? Se questo è la distanza dal filo e questo è il capo elettrico in funzione alla distanza al filo e questo è il raggio del filo, per punti esterni va giù 1 su R, per punti proprio sull'asse vale 0, come andrà da qua a qua? Convincetevi che ci va linearmente, convincetevi che ci va linearmente, fate conto, perché potrei chiedervi come va se la dipendenza è una cosa del genere, quindi per punti esterni sta andando così, perché qual è la carica interna? Se questa è la sezione del filo visto appunto il taglio trasversale e questo quindi è l'asse del filo immaginate una latina di Gauss che è messa così, quindi dovete vedere l'analogia tra questi esercizi, questo è il vostro filo e questa qua invece è la sezione della latina di Gauss e ovviamente il flusso attraverso la superficie, questo è la superficie di Gauss, il flusso attraverso questa superficie tutti sanno cos'è e il flusso è uguale a Q interno fratto F0 ma quant'è il Q interno? Il Q interno, lo disegno in arancione è questa roba qua, se questa è la vostra lattina di Gauss, se questa è la vostra lattina di Gauss, la lattina di Gauss racchiude quella carica che è l'interno della lattina di Gauss e quanto è? quindi il volume qua, questa faccia qua è l'area questa area qua è pi greco R quadro moltiplico per L, questo è il volume poi lo moltiplico per ρ0 per conoscere la carica quindi la carica interna, la carica interna è ρ0 per quello siete d'accordo? Sì, quindi questa la sapete questo è ρ0, pi greco R quadro L diviso F0 questo è fisica, ma matematica? matematica, qual'è? Questa è la stessa storia di prima avete il campo elettrico alla distanza D per il flusso per la superficie della lattina che è quello utile non certo sono i tappi ma è la parte cilindrica perchè il campo elettrico qua sarà sempre vedi che sto anche facendo un esercizio ma meglio, meglio, con una domanda in più da fare in un orale questo è il campo elettrico, è sempre radiale quindi questo è il volume comune per l'area per la superficie della parte cilindrica e la parte cilindrica cos'è? E2 pi greco R per L quindi qual'è il valore? avete E di D, vediamo se mi viene perchè non volevo farlo ma alla fine quindi avete il pi greco che si va via questo pi greco va via con questo questo R va via con questo, ah vedete? questo L va via con quell'L e vedete che E di D è uguale e proporzionale ad R, l'ho dimostrato facile, se uno ha le idee chiare, fatele queste qua abbiamo fatto tra l'altro ieri e oggi la legge di Gauss applicata a distribuzione di cariche molto popolari tra i docenti perchè sono i casi domani che si fanno le orale carica putiforme, la sferica, la sfera uniforme la linea, il piano infinito, due piani infiniti quindi quattro piani, va bene ci vediamo ci vediamo la prossima settimana